Eccoci qua amici e amiche di YouTube e di Facebook, bentornati nel mio canale come sempre, io sono Luce, allora questa mattina voglio andare a fare un video breve, nel senso voglio andare a chiedere se entro Pasqua otterremo quello a cui stiamo pensando, quindi magari stiamo aspettando una chiamata di lavoro, stiamo aspettando un chiarimento da un'amica o un messaggio da un uomo che non sentiamo da tempo, i casi sono tantissimi, io vado a chiedere appunto se entro Pasqua, quindi entro un mese, perché oggi è il 25 di marzo, manca meno di un mese a Pasqua, quindi se entro Pasqua andiamo a ricevere qualche notizia da parte della persona che ci interessa, quindi qualche notizia, un messaggio, una mail, una telefonata, un incontro, vediamo un po', entro Pasqua, per chi guarderà questo video, andiamo a fare i mazzetti, mettiamo sul primo mazzetto la polverina blu, sul secondo quella oro e sul terzo quella verde, allora potete prendervi un attimo, pensare alla persona che vi interessa, la persona per la quale state chiedendo e poi andiamo a vedere un po' quello che ci dicono i mazzetti con le mie carte napoletane. Allora, quindi la domanda appunto se entro Pasqua, quindi entro un mesetto, riceverò la chiamata o qualcosa inerente a una persona specifica che voi sapete chi è. Ah, mi esce come se voi in questo momento state pensando di vivervi l'attimo, di non andare troppo in là con il pensiero. Io qua vedo delle carte positive, nel senso che dopo un momento, dopo un momento sicuramente di lontananza fisica o mentale comunque, a me esce proprio la carta del ritorno, quindi un messaggio, un legame anche forte secondo me con questa persona. Quindi in campo lavorativo sicuramente magari è un ritorno a un lavoro dopo un periodo di fermo, dopo un periodo di ferie, ritornate in questo posto. Comunque io vedo un ritorno, anche un messaggio, quindi comunque qualche notizia. Ci sono ci sono occasioni in questo appunto entro un mese che voi sicuramente potete sentire questa persona per la quale avete chiesto Mazzetto 1. Allora adesso andiamo a vedere Mazzetto 2. No, no. Qui direi che c'è solo un pensiero. Ci sono delle difficoltà, degli ostacoli. Naturalmente qui non mi dice che genere di ostacoli ci sono perché naturalmente ognuno di voi avrà la sua situazione personale, però da quel che vedo qui purtroppo c'è il pensiero, il desiderio di parlare, di chiarire, però questa cosa sicuramente entro un mese non verrà fatta. Poi ragazze andiamo a vedere adesso per il terzo, quindi la polverina verde. Allora allora quello che mi esce qui è la polverina verde. è che probabilmente non sentirete, non sentirete neanche qui del terzo Mazzetto questa persona, ma perché? Perché qua secondo me questa persona tipo che ha paura dei pettegolezzi, ha paura che qualcuno venga a sapere un qualcosa e di conseguenza vedo che aspetta. Probabilmente non sarà entro Pasqua, ma sarà un pochino più avanti, però qua naturalmente siccome è una stesa che ha un termine, quindi il 21 di aprile, le carte mi dicono che c'è da attendere, proprio perché ci sono degli ostacoli, proprio perché non si vuole che questa notizia, che questa notizia esattamente venga scoperta da qualcun altro, da altre persone, quindi questo è quello che mi esce nel terzo Mazzetto. Sicuramente c'è un'attesa, quindi c'è un un tempo un po' più lungo, ok? Per questo video ragazze e ragazzi io direi che è tutto, vi auguro un buonissimo inizio di settimana e ci sentiamo prestissimo con altri video. Lucia